Francesca? Tutto ok? Francesca torna, torna a casa, vieni! Attenzione al costume anche lì che ci sono, eh? Delle situazioni... Pau' Ursula Andre... Oddio... Ah, è vero! Vieni, vieni, vieni! Eh, Stefano, siamo tutti rapiti da Francesca, però dici il risultato della prova! Allora, hanno vinto gli uomini col risultato di 15 contro i 5 punti delle donne. Ma no, però! Adesso, mi faccio vedere ora! Non è che non voglio far vincere gli uomini, però c'era quella cosa lì! Alessia, si faccia! Alessia! Ragazzi, è così! Ferma, ferma! Ferma! No, facciamo la parità, dai! Cos'è successo? Perché è impazzita? Ma che succede? Stai, facciamo la parità! Allora, mi metto qui un po' di... Ah, soffre per la torta! Piange veramente! Ma povera! Però dai! Stefano! Dai! Facciamo la parità! È stata pure la festa delle donne! Ragazzi, mettete la torta lì! Gli uomini potrebbero essere galanti! Dai, facciamo la parità, vi prego! Però ci c'è ancora la possibilità di mangiare! Grazie a tutti